Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parleremo di Porfirio Rubirosa, la vita spericolata del playboy più famoso del Novecento. Per chi non avesse visto i due video precedenti sappia che ho preso un bel raffreddore d'agosto, quindi la mia voce è decisamente differente rispetto al solito. Buona visione! Cosa potevano avere in comune il playboy internazionale più famoso degli anni 50 e 60 e uno dei più spietati dittatori dell'America Latina? Si potrebbe iniziare dalle loro origini. Porfirio Rubirosa, l'uomo che dormì insieme a chissà quante donne, e Rafael Trujillo, sanguinario padrone assoluto della Repubblica Dominicana per oltre 30 anni, erano entrambi dominicani, ma questo dato potrebbe non avere molta importanza. Più rilevante è invece la passione per le donne, che Trujillo considerava soltanto degli oggetti destinati alla soddisfazione dei suoi appetiti, mentre invece per Rubirosa rappresentavano probabilmente l'unica ragione di vita. Anche se ricoprì incarichi diplomatici durante l'era Trujillo, il famoso playboy riuscì a mantenere uno stile di vita dispendiosissimo, soprattutto grazie alle relazioni e ai matrimoni con donne ricchissime. Ma nonostante la giostra incessante di donne che vorticava intorno a Rubi, così era noto a tutti, lui era considerato un gentiluomo, uno che non si vantava mai delle sue conquiste ed era galante con tutte. La galanteria, quindi, quel particolare atteggiamento che fa sentire una donna unica, la più importante del mondo per l'uomo che ha di fronte, era l'arma di seduzione principale di Porfirio, ma certamente avevano importanza anche le voci che correvano sulle dimensioni del suo pene, che lo scrittore statunitense Truman Capote nel suo romanzo incompiuto, Preghiere esaudite, definì una pompa color caffè latte lunga 11 pollici e spessa come il polso di un uomo. Rubi considerava le donne un vero e proprio lavoro a tempo pieno e talvolta arrivava a definirsi uno gigolò. Non fu però grazie a una donna che iniziarono le fortune e la vita straordinaria di Rubi Rosa, ma alla simpatia che riuscì a suscitare nel dittatore dominicano, che lo nominò tenente della guardia presidenziale il giorno dopo averlo conosciuto a un country club. Rubi Rosa, che aveva vissuto a Parigi con la famiglia fino all'adolescenza, aveva 20 anni e voleva diventare avvocato, ma l'incontro con Trujillo gli cambiò la vita. Abbandonò gli studi, ne sposò la figlia Flor de Oro appena una settimana dopo averla conosciuta e divenne ben presto un diplomatico, inviato in diverse ambasciate fra cui Berlino, Parigi, Buenos Aires, Roma e Lavana. Il matrimonio durò otto anni fino al 1938, quando gli innumerevoli tradimenti di Porfirio e anche le botte, pare, indussero la figlia di Trujillo a chiedere il divorzio. Chiunque altro avrebbe corso un serio pericolo di vita, ma non Rubi. Lui aveva relazioni con tutto il jet set internazionale e legami con importanti politici, molti utili al regime. Ma, cosa ancora più importante, era un fedelissimo del dittatore, coinvolto probabilmente in due omicidi politici di avversari di Trujillo avvenuti negli Stati Uniti. Nei momenti in cui era corto di soldi, come nell'anno seguente al divorzio da Flor de Oro, quando il perdono del dittatore non era ancora arrivato, Rubirosa si ingegnava come poteva. Iniziò a vendere visti dominicani ai cittadini ebrei che volevano scappare dalla Germania nazista e usò il suo passaporto diplomatico per contrabbandare gioielli. Poi, nel 1940, Trujillo fece come se niente fosse accaduto. Nominò Rubirosa addetto commerciale in Francia e finanziò la sua dispendiosa vita notturna parigina, divisa tra il Moulin Rouge e i meno sfavillanti cabaret del quartiere latino. Poco dopo, quando non era ancora conosciuto a livello internazionale come irresistibile Rubacuori, Ruby sposò la più famosa attrice francese dell'epoca, Danielle Darie. Seguirono le due donne più ricche dell'epoca, Doris Duke e Barbara Hutton, ereditiere americani che lo coprirono di soldi e altri beni, come auto da corsa, aerei, ville e proprietà terriere. Intanto, il Playboy non si faceva mancare relazioni con le donne più desiderate dell'epoca. Zazza Gabor, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Joan Crawford, Judy Garland e trovava il tempo per coltivare anche altri interessi, come gareggiare due volte alla 24 ore di Le Mans, giocare a polo, cercare tesori nelle acque dei Caraibi. Nel 1956 si sposò per la quinta volta con l'attrice Odile Rodin. Lei aveva 19 anni e lui 47. Probabilmente fu l'unico matrimonio d'amore di Ruby che intanto continuava a essere stipendiato da Trujillo. Il 30 maggio del 1961, quando il dittatore dominicano fu ucciso, cominciò anche il declino di Ruby Rosa. Il Playboy tentò di convincere John Fitzgerald Kennedy, allora presidente degli Stati Uniti ed America, ad appoggiare alla successione il figlio di Trujillo, senza riuscirci, perché la famiglia era ormai troppo mal vista da quasi tutti gli stati americani. Il nuovo governo dominicano esonerò da ogni incarico Ruby Rosa, che nel giro di pochi anni esaurì tutte le proprie risorse economiche. Gli amici lo vedevano depresso, sempre più spesso ubriaco, e mai, mai sfiorato dall'idea di lavorare. Pensava di trovare un'altra ereditiera da sposare, iniziò a scrivere le sue memorie ma non le finì, voleva lanciare un profumo che portasse il suo nome in collaborazione con l'amico Gunther Sachs, ma non se ne fece niente. La notte del 4 luglio del 1965 Ruby Rosa festeggiò in un famoso locale notturno, insieme a molti altri, la vittoria della sua squadra di polo nella Coupe de France. Quando era già la mattina del 5 luglio, anziché prendere un taxi, come faceva d'abitudine quando beveva molto, salì sulla sua Ferrari 250 GT e andò a schiantarsi contro un ippocastano in un viale del Bois de Boulogne. Aveva 56 anni. In quelle ore notturne in cui è più facile lasciarsi andare a confidenze, Ruby aveva confessato a Regine, la proprietaria del nightclub, di non volere diventare vecchio. Incidente o suicidio? Destino, affermarono gli amici. Grazie a tutti.